I comitati di quartiere San Francesco, Stazione Providenza, San Giuseppe, Santa Croce e Santa Barbara con il patrocinio della diocesi di Caltanissetta dell'Ufficio Diocesano Cultura e Comunicazioni Sociali hanno organizzato l'evento Le donne e la costruzione della città moderna. Sarà domenica 3 aprile che dalle 10.30 via Signore della Città si trasformerà in un luogo di incontro. Ad introdurre l'evento sarà Pinella Falzone, ci saranno poi gli interventi della storica Rosanna Zaffuto Rovello sulle storie di donne di scelte coraggiose e poi la professoressa giornalista Fiorella Falci che parlerà delle donne, la miniera e l'azione sociale, concluderà Don Alessandro Rovello. Dopo il momento di approfondimento arriverà anche quello della degustazione della frascatola preparata dallo chef Ottavio Miraglia e del surf a rodolce realizzato dal maestro Lillo De Fraia. Grazie.